Lo sapevi che per i bambini all'interno dei disegni le dimensioni sono molto importanti? Infatti i bambini danno una scala di valori per dimensione all'interno della sintesi grafica. Molto interessante è guardare come i bambini disegnano i genitori e quanto grandi li disegnano. Non è importante l'altezza che in generale indica lo stato che il bambino ha nella famiglia. Nel senso se il bambino si disegna grande quanto un genitore non significa che non ha timore del genitore ma significa che si sente accolto in un rapporto alla pari, armonioso. Se invece stai attento, tuo figlio ti disegna con una testa molto grossa, ti reputa una persona molto intelligente, con delle mani molto grandi, forse dai qualche sculacciata di troppo. Quindi stai attento perché a seconda dell'elemento che mettono in evidenza, lì devi andare a cercare se c'è qualcosa che non va.